ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei parlarvi di di uno milano un'azienda che negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé perché è stata molto presente su youtube su instagram ma in particolare vorrei parlarvi del suo amministratore delegato dario spallone ora io mi meraviglio come nessuno prima di me si sia accorto di questo fatto dario spallone in realtà non è l'amministratore di di uno milano ma non è altro che mattia santori il leader del movimento delle sardine che evidentemente per via del lockdown non è più riuscito a organizzare manifestazioni di piazza per cui si è dato all'orologeria allora ha dato degli orologi ai vari youtuber che li hanno recensiti e questi orologi hanno ricevuto dei commenti non non favorevoli tanti si sono lamentati ora dario spallone è stato anche molto gentile perché ha considerato le persone che seguono youtube che più o meno sono 15.000 25.000 persone come degli esperti ora naturalmente questo non potrebbe essere più lontano dal vero sono persone normalmente che non ci capiscono assolutamente una mazza quelli che quelli che seguono questi questi canali ed è evidente dal fatto che utilizzano anche una terminologia assolutamente sbagliata lo stesso spallone chiede a polle del canale consigli per gli acquisti nella sua intervista quale sia l'accezione di fashion watch perché come viene utilizzato ovvero negativamente non ha assolutamente nessun nessun senso considerare negativamente un fashion watch soltanto perché non ha una storia perché soltanto perché non ha un un heritage è la cosa più sbagliata che ci possa essere qui faccio soltanto il caso di ralph loren che è entrata nel mondo dell'orologeria soltanto nel negli anni 2000 eppure ha prodotto degli orologi stupendi con delle ripetizioni minuti con delle rifiniture incredibili per cui non ci potrebbe essere nulla di più lontano da questa definizione negativa ma anche quando parlano di rapporto qualità prezzo lo fanno soltanto per dire qualcosa perché non ne hanno minimamente l'idea non conoscono i movimenti non sanno quelli che sono dei belli orologi dei bei movimenti oppure no considerano i sellita come se fossero dei dei movimenti veramente di valore quando sellita non è soltanto non è altri che un assemblatore di cloni che poi di cloni della età che poi certe parti non è in grado di farle e le fa le le fa direttamente la età perché obbligata perché è in una situazione di monopolio per cui ecco gli cioè qui i calibri che sono quelli più vezzeggiati sono dei cloni ecco considerate qua la considera insomma ecco dario la conoscenza che c'è qua in questo in questo campo la in realtà rispetto all'uomo qualunque ovvero l'uomo che magari va in negozio per comprare un orologio perché effettivamente gli serve oppure uno che c'ha da fare un regalo l'unica differenza è che l'uomo comune ha un'idea dell'orologeria svizzera e in particolar modo di rolex sa che più o meno costa 5000 euro e non è disposto a spendere quella cifra lì in quel momento lì per cui cerca qualcosa di carino per cui un oggetto come di uno milano come daniel wellington un oggetto comunque bello esteticamente può essere un orologio assolutamente che può essere scelto le persone che seguono questi canali hanno fatto effettivamente un saltino in più ovvero certo considerano la svizzera considerano rolex però sanno anche che c'è ci sono altre aziende parlo per esempio di citizen parlo di seiko parlo di altre aziende anche svizzere per cui hanno un'idea un pochino più non di molto ma un pochino più più larga ora però siccome le conoscenze che ci hanno e molto sono molto limitate e qui arrivo al punto sul sul quale che spiega il motivo per cui alcuni brand sono vezzeggiati e altri brand invece come di uno milano sono criticati di uno milano av8 daniel wellington sono orologi che vengono criticati mentre invece ci sono altri orologi simili perché anche quelli diciamo non portano nulla di nuovo sul tavolo che sono per esempio christopher ward sono per esempio il maurice lacroix l'icon christopher ward è il tridente che si rifà in tutto e per tutto all'omega simaster maurice lacroix icon si rifà comunque a delle forme gentiane e con questo non voglio assolutamente aditare il fatto che siano degli omaggi o che pure si rifanno a determinate forme con un'accezione negativa io per esempio sono un grande ammiratore di dello gerard perigo laureato che ha al suo interno un bel un bel movimento che ha una storia e che comunque si rifà a quello a quello stile come il come il di uno per cui non è il problema di essere un omaggio comunque rifarsi a certi stilemi ma christopher ward maurice lacroix vengono vezzeggiati mentre invece gli altri vengono snobbati vengono criticati qual è il motivo il motivo è molto semplice perché maurice lacroix e christopher ward hanno il lo swiss made sebbene al loro interno montino un sellita di nessun diciamo con nessun di nessuna considerazione particolare da un punto di vista orologiero perché di fatto è un clone ma nonostante questo la scrittina swiss made fa sì che nello stereotipo della 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 persona insomma dell'appassionato ecco questi diventano degli oggetti di valore per cui non di fatto le critiche non non ci sono esiste naturalmente esistano delle delle così del dei casi particolari ovvero dei casi per esempio mercur non viene criticato pur non avendo pur non avendo naturalmente lo swiss made perché viene perché viene comunque prodotto totalmente in in cina ecco il motivo per il quale il mercur mi rifaccia la domanda che ha fatto che ha fatto polle il motivo per il quale non viene criticato è perché non si rifà a modelli di svizzeri ma si rifà ma a modelli anzi copia proprio quello proprio un una copia quasi perfetta dei seico oppure dei in particolar modo si dei seico per cui se si copiano gli orientali tra di loro quello non è un problema non viene visto con un'accezione negativa no allora lì viene visto come un rapporto qualità buono per cui lì non c'è ecco non c'è la critica ecco perché il mercur non viene non viene criticato perché copia il non svizzero il me di svisse che io ho cercato insomma in tutti questi anni di sminuire di cercare di ma non sminuire proprio perché non dà nessuna garanzia che il prodotto sia prodotto in effettivamente in svizzera soltanto una minimissima particolare un minimo percentuale viene prodotta in svizzera e comunque si può avere lo swiss made ma nonostante questo la gente non ne vuol sentir parlare perché perché è molto più semplice catalogare un orologio tra buono e cattivo se c'è lo swiss made oppure non non ce l'ha naturalmente non so dare un un giudizio non so dire se di uno milano sarà la nuova sarà la nuova il nuovo daniel wellington non so dare neanche un giudizio effettivo perché non ho toccato con mano visto qualche recensione e tra l'altro ho visto delle recensioni non italiane ho visto quella di just one more watch così a vederlo da youtube mi pare che sia fatto anche sia fatto anche bene per cui sicuramente ci sono ci sono delle c'è un gruppo di persone che assolutamente può essere un acquirente di questo di questo orologio io faccio io faccio gli auguri a dario spallone alias mattia santori più che altro per per l'iniziativa che ha credo dal insomma da qualche anno con di uno milano gli auguro insomma ecco di fare di fare di riuscire insomma a in questa in questa sua impresa avere successo e io intanto vi vi saluto e se vi è piaciuto questo video come sempre mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti grazie a tutti